Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò dove trovare le due monete viola per la settimana 4 della stagione 4 di Fortnite capitolo 2. Sono in questo momento in modalità laboratorio, quindi le monete non ci sono, però vi posso dire l'esatta posizione delle due monete. La prima moneta si trova qui, ci sto andando, dove c'è quella casetta tipo qua praticamente, su questo isolotto nella parte più a sud della mappa qui, su questo isolotto qua, dove c'è pantano palpitante per capirci. La moneta viola praticamente oggi appare qui, dove c'è questa lanterna, questo palo, questa qua. Praticamente la moneta viola la troverete qui su. Andiamo alla seconda e ultima moneta. La seconda e ultima moneta viola della settimana si trova a sabbie sudate, qui dove c'è anche il castello. Praticamente all'esterno del castello c'è questa roccia dove ho messo il punto. Lì troverete la seconda e ultima moneta viola della settimana, qui praticamente, proprio su questa roccia, fuori il castello a sabbie sudate. Quindi non potete sbagliarvi, c'è anche lo gnomo, quindi qui troverete l'ultima moneta viola.